Senti Raspo, intanto volevo ringraziarti, devo ringraziarti perché la tua energia sta trasmettendo in tutta Italia un messaggio, sei un uomo della nostra terra, sei un grande artista e stiamo facendo un grande spettacolo per valorizzare te, la nostra terra e Modena, quindi io ti ringrazio moltissimo della tua passione e soprattutto dell'energia delle tue canzoni, della forza che stai mettendo per continuare a trasmettere emozioni, quindi ti ringrazio moltissimo. Io ringrazio te, ringrazio te, tutti, la Giunta, ringrazio Modena, la città, ringrazio i modenesi, la pazienza che avranno nell'accogliere questa moltitudine di pacifici, voglio dire, di allegri, il mio pubblico è un pubblico straordinario, io sono sempre allibito dalla partecipazione che amo e dall'entusiasmo, per cui il loro entusiasmo poi è quello che mi fa avere questa spinta, quindi vi ringrazio molto per aver avuto anche il coraggio di questa cosa, capito? e comunque diventerà un feste talmente epocale che sarà il capitale mondiale del rock, Modena, io sono orgoglioso e fiero di tutto questo. Grazie, ti ringrazio molto. Grazie a voi. Grazie. Grazie.